Penso che quando un ragazzino o una ragazzina si approcciano a qualsiasi sport è chiaro che ti ispiri a un atleta nel tuo sport che già fa determinati risultati e si sa l'Olimpiade ha questo fascino dove è giusto che sia così, che tu cresci con il mito di vivere le Olimpiadi e quindi nel 2000 quando ho vissuto questa esperienza è stato estremamente affascinante, una magia nella magia che anche di scriverla non è così semplice, però di fatto è la possibilità di stare con tantissimi atleti di tutto il mondo non solo del tuo sport ma di tanti altri sport, per dire mi sono trovato nel villaggio olimpico nella sala ludica di svago di divertimento, nella sala giochi ma a un certo punto mi guardo di fianco sotto Mallorca.